La festa della birra La festa della birra Ti posso presentare? Lui è Carle, l'organizzatore di tutto questo e delle mie serate caglialitane Allora, buonasera, spero abbiamo una bella festa qua stasera Sono Maurizio Anche lui è un mio carissimo amico Insegno Avete visto questa ragazza col vestito bianco e fiori? Lei è la principessa della festa? Da quanti anni vieni a questa festa? Eh, tre, quattro E da Carle vai sempre? Sì Strano, io ci sono lì praticamente tutte le sere però non mi ricordo Cioè lui che vi avva, sicuramente più di me Infatti si veda la faccia Sei di Cagliari? Quarto E lei mi ha visto il nostro reality show online? No Molto male Adesso ti do il sito e andrai subito a guardarlo Certo Ciao Federico, come stai? Benissimo, per ora molto bene Di qualcosa, presentati Beh, sono alla seconda birra quindi sto ancora molto bene Però non garantisco per le undici o mezzanotte perché potrei stare un pochino peggio Ok Da quanti anni vieni qua tu? Io sempre Come me? Almeno due volte all'anno A ottobre e a marzo, aprile Ian, ti ricordi di me? Sì, come stai? Alla fine ci si ritrova sempre qua Ok, adesso vi ho presentato qualcuno, vi ho fatto vedere di che cosa si tratta e vado anche io a divertirmi Ciao